E' il punto più critico? Molto velocemente, perché tanto i lavori che sono stati fatti si parlano da soli, però volevo dire innanzitutto che visto che di problemi ce ne sono ancora tanti, sono molto contento che almeno questo qui sia un problema che abbiamo risolto e quindi voglio ringraziare tutti quanti quelli che hanno contribuito a risolverlo, per cui qui davanti a me, chi siete voi del comitato, che logicamente avete dato una grande mano perché indubbiamente la spinta che avete, come posso dire, impresso voi è servita e quindi vi ringrazio anche perché siete stati, siete un comitato che oggettivamente si è mosso per risolvere i problemi e non per creare delle polemiche o per, come posso dire, per rendere più difficili le cose e questa è una cosa molto positiva perché positivamente dobbiamo collaborare tutti insieme e quindi da parte vostra è sempre stata evidente la volontà di fare in modo che tutti insieme come gruppo potessimo risolvere le cose. al di là, come posso dire, di idee diverse, però questo è importante perché non sempre poi i comitati, i gruppi che si costituiscono hanno l'intento di arrivare ad un risultato comune, invece qui quell'intento c'è stato e collaboreremo ancora perché i problemi non sono finiti però vi ringrazio perché al di là, come posso dire, dei gesti eclatanti dei video c'è poi quello che c'è stato dopo anche con la difficoltà è appunto stata una collaborazione quindi lo dico davvero perché lo penso e vi ringrazio molto e l'altra cosa però è che voglio ringraziare la città metropolitana nel senso che ci siamo mossi magari con un po' di ritardo e però oggettivamente secondo me questo lavoro è la dimostrazione che poi la volontà di fare le cose, di risolvere le cose c'era perché sembrava che dovessimo fare inizialmente un lavoro da qualche centinaio di migliaia di euro temporaneo giusto per provare a bypassare quello che c'era, la sostanza è che invece poi la città ha investito davvero tanto ed è venuto fuori secondo me un progetto che va oltre le aspettative che avevamo all'inizio e in generale tutto l'intervento sulla provinciale penso che sia un intervento che davvero dimostri il fatto che c'è stata la volontà di investire quanto era necessario per fare le cose non minime ma anche un po' diciamo oltre. Mi dispiace che non ci sia, ci sono qui il consigliere Monesi, c'è Davide Labate, ci sono un po' di esponenti della città metropolitana, mi dispiace che non ci sia l'ingegner Comastri che ha fatto un grande lavoro comunque per insieme diciamo tutti quanti i tecnici per riuscire a sistemare questo grosso problema che avevamo. Ringrazio anche Marco Panieri che è qui con noi che è vice sindaco metropolitano e sicuramente ci ha dato un aiuto il fatto che il sindaco di Rimola si sia comunque preso a cuore la questione della provinciale 33 e non so io...